Salve a tutti e bentrovati. Riprendiamo il discorso della grammatica e specificatamente quella sui pronomi. Abbiamo fin adesso visto in maniera generale i pronomi, adesso abbiamo visto più nel dettaglio i pronomi personali, la loro distinzione in pronomi personali soggetto e pronomi personali complemento. Quindi la lezione di oggi invece verterà sui pronomi personali riflessivi. Prima facciamo una breve ripetizione di quello che ci siamo detti, così giusto per sommi capi e rinfrescare le idee. Poi passerò alla spiegazione dei pronomi personali riflessivi e infine vi assegnerò le attività da svolgere ed anche vi indicherò entro quando farle. Quindi andiamo come sempre sul nostro ormai consolidato PowerPoint e lo facciamo partire. Sul pronome ormai penso che ci siamo intesi, la parola significa prima del nome, quindi al posto del nome e il pronome è quella parte variabile del discorso che ha il compito di sostituire il nome permettendo di indicare, ovviamente senza nominarli, esseri, cose, dal punto di vista della quantità, della qualità e della posizione. Ci siamo detti appunto sul pronome che ha due caratteristiche. La prima è quella di evitare le ripetizioni. L'esempio dell'altra volta, Gabriele ha studiato bene la grammatica anziché a dire perciò Gabriele sarà interrogato, diciamo perciò lui sarà interrogato. Ecco qui il nostro Gabriele che come sempre è un po' perplesso. Poi ci siamo anche detti che la seconda caratteristica è quella di avere un significato proprio, per indicare persone, cose o animali. L'esempio, il professore ascoltò tutti, nel senso il professore ascoltò tutti gli alunni. E questi sono io che appunto vi chiedo di parlare. Allora, diciamo detti però che il pronome non sostituisce soltanto il sostantivo, quindi il nome, ma può sostituire anche altre parti del discorso, l'aggettivo, il verbo, un altro pronome o addirittura un'intera frase. I pronomi personali, diciamo detti, sono quei pronomi che rappresentano la persona, quella che sta parlando, ma anche quella che ascolto o addirittura la persona di cui si sta parlando in quel momento. Ovviamente senza mai specificarne il nome o comunque appunto, come dicevamo prima, ripeterlo. E ovviamente questi variano sia nel genere maschile e femminile che nel numero singolare e plurale. Poi abbiamo detto questa distinzione tra pronomi personali soggetto, che svolgono appunto la funzione di soggetto all'interno di una frase, e pronomi personali di complemento, che svolgono invece le funzioni appunto di complemento. Abbiamo visto che esiste un'ultima distinzione all'interno dei pronomi personali di complemento a seconda delle due forme più o meno accentate. Ecco qui appunto la forma tonica e la forma atona in questo schema dei pronomi personali di complemento. Ovviamente ho riportato ancora i pronomi personali soggetto nell'altra colonna e come sempre vi invito a ripeterli degnamente qualora ancora non li avessimo imparati. Vi ricordo che in forma tonica in massima parte i pronomi personali hanno funzione o di complemento oggetto che risponde alla domanda a chi che cosa o di complemento di termine che risponde alla domanda a chi a che cosa e poi c'è insieme il pronome ne che può avere poi anche altri usi, mentre in forma atona hanno sempre la funzione di altri complementi. Allora andiamo a vedere la lezione di oggi sui pronomi personali riflessivi. Cosa sono questi pronomi personali riflessivi? Sono quei pronomi che fanno ricadere l'azione del soggetto sul soggetto stesso. Mi ricordo che il soggetto è quella parte del discorso che compie l'azione. Facciamo un esempio per chiarirci meglio. Durante il compito Laura e Flavia si alimentano. Allora sì è il pronome ovviamente personale riflessivo. Qui abbiamo Flavia e Laura che stanno mangiando e Laura che dice com'è a te il panino? E Flavia che risponde buono, mortadelle, proprio le piccante. Una roba leggera. Torniamo alla nostra frase. Quindi sì è pronome personale riflessivo. Che cosa abbiamo detto dei pronomi personali riflessivi? Che l'azione deve ricadere sul soggetto stesso. Quindi questa frase potrebbe essere così tradotta. Durante il compito Laura e Flavia alimentano chi? Se stesse. Come vedete Laura e Flavia è il soggetto. Compiono l'azione di alimentarsi. Alimentano è uguale al predicato verbale. Quindi se stesse, cioè Laura e Flavia ci dimostrano che l'azione ricade appunto sul soggetto. Cioè su Laura e Flavia che hanno compiuto l'azione di alimentarsi. D'accordo? Quindi come notate, torno a ripetere, in questo caso il pronome fa ricadere l'azione alimentare sul soggetto. Laura e Flavia. Questi sono i pronomi personali riflessivi. Allora, vediamo la tabella. Eccoli qui. Prima persona singolare mi, seconda persona singolare ti, terza persona singolare si, prima persona plurale ci, seconda persona plurale di, terza persona plurale si. Attenzione però alla terza persona. Perché? In terza persona singolare plurale possiamo anche aggiungere tra le modalità con cui esprime il pronome personale riflessivo. Il se, mi raccomando con l'accento, tra un po' specificeremo questa cosa. Mentre in terza persona solo plurale proviamo loro. Anche questo schema ovviamente va imparato. Andiamo a considerare le particolarità dei pronomi personali riflessivi. La prima. Se, come dicevo prima, va sempre scritto con l'accento. A meno che non sia accompagnato dagli aggettivi stesso o medesima. Ovviamente opportunamente concordati in genere e in numero. Quindi stessi, stessa, stesse, medesimi, medesima o medesime. Ovviamente in questo caso può anche essere scritto senza l'accento. Andiamo a vedere un esempio. Carmen crede in sé. Come vedete il sé va scritto con l'accento in maniera obbligatoria perché non è accompagnato né da stesso né da medesimo. Al femminile in questo caso stessa è medesima. Carmen crede in sé stessa. Allora qui possiamo lasciare l'accento anche se è accompagnato da stessa. Ancora. Carmen crede in sé stessa se senza accento vale anche questa possibilità. Quindi solo e esclusivamente nel caso in cui non ci fosse stessa se non si può scrivere senza accento. Ora, un consiglio. Scrivete sempre sé con l'accento così siete sicuri di non sbagliarvi mai. Questo è il caso di cui vi parlavo prima. Assolutamente non va bene. Carmen crede in sé. Sé senza accento. È sbagliatissimo. Qui infatti troviamo Carmen che sta mangiando un panino e dice, mmm, evviva la merenda. Quindi crede in sé stessa ma crede anche nel rifocillarsi. E quindi questo sé lo andiamo a cancellare perché non deve assolutamente avere l'accento. Quindi vi invito a scrivere sempre sé con l'accento anche se c'è questo caso in cui accompagnato dal aggettivo stesso potrebbe anche essere scritto senza. Ma siccome c'è l'eventualità di scriverlo in entrambi i modi, se io mi assicuro di scrivere sempre sé con l'accento non sbaglio mai. Andiamo a vedere la seconda particolarità. Sé al plurale è sostituito, terza persona plurale, da loro. Qua allora è preceduto da espressioni di questo tipo. Tra, fra, che vi ricordo che tra e fra tra l'altro sono le uniche due parole della lingua italiana che sono sinonimi assoluti e non quasi sinonimi, nel senso che i sinonimi in realtà sono parole che hanno lievi sfumature di significato l'una dall'altra. Invece tra e fra sono queste due reposizioni che hanno l'identico significato. Quindi tra, fra, anche in mezzo a o vicino a. Guardiamo come esempio un esempio. Nicola e Gabriele si ignorano. Nicola e Gabriele che significa? Si ignorano tra loro, tra di loro. Quindi come vedete abbiamo il caso di tra e vuole per forza loro. Non vuole sé. Non si può scrivere Nicola e Gabriele tra sé si ignorano. Si deve scrivere tra loro. Ecco qui Nicola e Gabriele. Nicola che dice, oh, lasciami in pace che devo fare i compiti e non distrarmi. Questo è un momento di un compito importante. Gabriele risponde, ma chi ti conosce? Perché come sempre, come vedete, tra di loro si vogliono ignorare. Tra loro, tra, fra e mezzo a, vicino a, vogliono sempre loro e mai sé, che sarebbe sbagliato. Allora, facciamo attenzione a quest'ultima cosa. Esistono alcuni verbi che vengono chiamati i verbi intransitivi pronominali. Allora, non so se avete studiato i verbi transitivi e intransitivi alla scuola elementare. Va bene, i verbi transitivi sono quelli che vogliono il complemento oggetto, proprio per sintetizzare al massimo. I verbi intransitivi sono quelli che non hanno mai il complemento oggetto. Quindi i verbi intransitivi pronominali sono verbi che non hanno il complemento oggetto e che sono uniti a delle particelle pronominali. Andiamo a vedere nell'esempio. Queste particelle vanno considerate non come pronomi riflessivi, chiaro? Non sono pronomi riflessivi, ma fanno parte integrante del verbo. Ad esempio, alcuni di questi verbi sono accorgersi, vergognarsi, arrendersi, pentirsi e ostinarsi. È ovvio che, ce ne sono anche molti altri, li trovate così come sono se li andate a cercare proprio sul vocabolario. Cioè, se andate sul vocabolario, oltre alla voce del verbo vergognare, trovate anche la voce del verbo vergognarsi, proprio perché è un verbo intransitivo pronominale. Bene, direi che abbiamo concluso, quindi vi assegno ciò che c'è da fare per la prossima volta. Studiare pagina 198, svolgere gli esercizi di pagina 199, 21, 22, 23, 24 e 25 e consegna di questi compiti svolti entro lunedì 27 aprile, entro le ore 11. A quell'ora, sempre alle 11, terremo anche un incontro su Zoom per svolgere una correzione collegiale dei vostri esercizi, ma naturalmente poi mi invierò anche il file per le opportune correzioni personali, qualora qualcuno di voi dovesse assentarsi. Bene, la nostra lezione di oggi si può considerare tutti gli effetti conclusa, quindi io vi saluto caramente, ricordandovi che per ogni difficoltà o incomprensione potete sempre contattarmi privatamente nelle ore prestabilite e nei giorni prestabiliti. Vi mando un abbraccione fortissimo e vi saluto ancora. Alla prossima, ciao!